Durante la sua sosta nel Regno Unito, il principe Ferri si è assicurato di rendere omaggio al primo anniversario della morte della sua amata nonna Windsor Venerdì. Mentre i reali si riunivano per ricordare la loro amata Elisabetta II Venerdì, il principe Ferri ha ritratto una figura solitaria, mentre faceva tappa al castello di Windsor, per rendere omaggio. Il principe Ferri ha visitato da solo l'ultima dimora della sua defunta nonna, per celebrare il triste primo anniversario. Il duca di Sussex, è stato fotografato mentre lasciava la King George V Memorial Chapel, che si trova all'interno delle mura della St George Chapel a Windsor. Ritornato nel Regno Unito per la terza volta quest'anno, Ferri ha volato da solo, con Meghan Markle, che ha deciso di rimanere in California con i due figli della coppia, Archie, quattro, e Lilibet, due. In netto contrasto con la scena di Windsor, il principe e la principessa del Galles sono arrivati alla cattedrale di St David in Galles per celebrare l'anniversario. Decidendo di rimanere a Balmoral, il re e la regina Camilla visitarono la chiesa parrocchiale di Crati, che si trova vicino alla tenuta, per un servizio. Parlando al Mirror, l'esperta di linguaggio del corpo Judy James ha analizzato Ferri, affermando che sembrava quasi furtivo durante la sua visita a Windsor. In un'immagine che circola di Ferri vestito con una camicia bianca, che lascia la cappella, la signora James ha detto. Il suo aspetto piuttosto solitario e isolato era in contrasto con il doppio atto più formale di William McKay, e forse sottolineava il triste fatto che Ferri non è in grado di condividere il suo dolore e di rendere omaggio al resto della sua famiglia. Ferri, arrivato nel Regno Unito solo giovedì, ha menzionato anche sua nonna nel suo discorso i Well Chilled Awards, alla vigilia del primo anniversario.